Mike, direi di collegarci subito con Angie per la parata di Mesis. Angie, ci sei? Ciao amici di Patrimonio Italiano TV, sono in diretta tra 77 e 81esima, dove avrà inizio la 101esima parata di Times Giving. Come potete vedere alle mie spalle comincia ad arrivare la gente, non si è mai vista così tanta gente in due anni. Ovviamente a causa del Covid l'anno scorso la parata non è stata fatta, quindi quest'anno si riparte alla grande, è tutto pronto, i carri sono già in fila, pronti per partire, non ci resta che fare un piccolo giro e seguire la parata, quindi ci aggiorniamo a più tardi. Alla prossima è stata fatta, 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 perché c'è la nostra inviata da Salta, la nostra italiana a New York, Angie Valentino, ancora in collegamento dalla parata di Mesis per il Thanksgiving. Angie, ci sei? Ciao Luigi, ciao Mike. Allora, io sono riuscita ad entrare all'interno proprio della parata e praticamente adesso qua hanno appena gonfiato i palloni, i grossi gonfiabili, come potete vedere dietro di me. Tutto è pronto, tutti si stanno vestendo, vedo piccoli pancake camminare per strada e niente, continuiamo il nostro giretto e a più tardi. Luigi Mike, allora sono riuscita ad entrare, mancano quattro minuti alla centunesima parata di Thanksgiving, tutto è pronto, è iniziato il countdown, quindi non ci resta che goderci lo spettacolo. Luigi Mike, allora sono riuscita ad entrare, mancano quattro minuti alla prossima, e non ci resta, mancano quattro minuti alla prossima, e non ci resta, mancano quattro minuti alla prossima, Oh, me too, sono il Presidente. È il Wizard of Paris? Puoi dire come arrivare a 34th Street? Certamente posso! Qui dentro la parata è fantastico, guardate un po', meravigliosi, allora c'è un'energia pazzesca, qua si respira proprio un'aria fantastica, è bello rivedere New York City così energica, era veramente tanto tempo, troppo tempo, io vi aggiorno più avanti e godiamoci questo spettacolo. È una esperanza di un', eric 추가a e un'erencizioni. Per tantissimi, a tutti gli autori di PEE e un'enercizio di un'enercizio di una ferma delle bellezza. Il momento inizia di una ericizia di un'enercizio. Per tantissime, un'enercizio di un'enercizio. Once again, let's hear it for John Bacchus. I'm going to call 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 for John Bacchus. Hi, Mike. The parade is finished. I greet you and give a big hug from Oltreoceano. Bye!